Ragazzi, ma che inseguimento incredibile! Allora, se non lo piglio... Ma che cazzo? Che un'ora che ti corriamo dietro! È proprio un'ora! La sentite la cicala in sottofondo? Siamo nella natura, perché noi facciamo sempre gameplay qui dal nostro studio e oggi si va nel bosco. Questo è Deer Hunter Call of the Wild. Costa 3 euro su Instant Gaming, se proprio non vuoi scaricare. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare, però. Noi l'abbiamo che in passato brutalmente. E adesso, niente, cerchiamo di... A voi piace la caccia? Magari siete contro la caccia, però... Ti muovi e entri dentro la casa? Sì, sì, aspetta, però... Che giocco è lento come la merda a sto gioco. Magari siete contro la caccia, però giocate a Call of Duty. A questo punto siete pro-guerra. Ti muovi e entri nella casa! Questo è il campo base. Sto guardando intorno. Questo è il campo base. Quello è lo shop. Entra dentro casa e vai a pia... O più a laccetta, è uguale. No, vai a caccia di cervico laccetta. A parte il fatto che qui ci sono tanti animali, non solo i... Non so, ci possiamo... Anch'io un'animazione, invece... È brutale. Una barita con un letto a castello... Anche molto pulita, se vogliamo. Però non possiamo dormire. Cioè, è notte, non possiamo dormire. Come funziona qua? Che poi con il monossido d'azoto... Sì, infatti... Con la stufa qui... Si imbuzzinisce di fumo a mezzo mondo e muori. Muori nel sonno. Forse mi devo abbassare. No, però comunque è molto pulita. Ma non ci puoi andare! È molto pulita la barita. Sì, ho capito. Ma perché non ho mai mangiato nessuno qua? Tu dici nuova, early access la barita. Va bene. Allora, dovrei comprare qualcosa. Visit... Visit a looking point. Dobbiamo andare su un looking point. A look out point. Vabbè, segui le tracce a destra. Le vedi le tracce. Stai senza armi, senza niente. Ci avventuriamo a seguire. Ma dice che devo visitare... Che cazzo sta succedendo? Ma che è? Un drone? No, puoi usare la camera. Ecco, ce l'hai il fucile? Lo posso, andiamo. Metti la mappa. Torna a mettere la mappa. Ah, c'ho pure questo. Due fucili si è portato dietro. Madonna, è quello di Udi. Anche una pistola, un revolver. Madonna. Scusa, ma siamo sicuri che andiamo a Cervi? C'era la luce. C'era la torta. Non so, che cazzo. Comunque, che dobbiamo fare qui? People. Ma che cazzo ce ne frega? Vai indietro. Ma vabbè, ma sto cercando di capire. Ma questo è il codex. È tipo il libretto di utilizzo del gioco. Madonna. Ok, dice che sono sparpagliati da tutte le parti nella riserva, questi look out points. Quindi non sarà un casino trovarli. Abbassiamoci. Sono andati a bere. Sì, io caccierei il shopping. Sì, sì, vorrei io, però sto facendo un po' di... Fai mu, fai mu con le cose. Se ne sono andati tutti i cervi. Ma che animale è? Ah, hunting Roosevelt elk, I see. Roosevelt's a big fella, but it's good sense of smell and hearing make it tricky to hunt. Ok, ha un buon fiuto e un buon udito. Si chiama Rose. Roosevelt elk. Una dei cervi più grandi del Nord America. Sono caratterizzati dal loro collo scuro. No, non è una... Sì, hanno il collo, vedi, sono il collo scuro. Se si chiama virante. Beh, sei una razza di cervo. Proprio, ma dobbiamo stare qua... Sì, vabbè, questo è il... Approfondito, madonna. Ma il bello è questo, guarda. Sì, va bene, quello che cazzo vuoi. Perché c'è sta ridicolato? Che cazzo devo fare? Ah, perché c'ho la macchina fotografica. Scusami. Dio... Di un... C'è scritto exit. È complicatissimo. È un gioco di una complicat... Devi sparare i cervi. Che cosa c'è di complicato? Però, dai, pure è buggato. Ho messo il fucile, a un certo punto è sparito, poi è ricompasso. Perché ti imbantanà, poi fa freddo, ti tammali? Perché di mattina, la mattina, loro in bocca. Loro chi? I cervi. Fai un richiamo del cervo. Vedi se sta qua intorno. Hai perso le tracce per sempre. Perché l'acqua, probabilmente, ha attraversato l'acqua e le sue tracce si sono... Ma non funziona così. Fai il richiamo del cervo, in amore. Ti muovi, in nome del... Ah, beh, sto a richiamare... Vai sul cucuzzolo della montagna e qua, che c'è una visione periferica migliore. Ma qui sono tutto... Sono esposto da qui. Ho trovato due tracce, abbiamo perso per sempre. Le tracce, esatto. Ecco, le tracce, le tracce. Vanno dall'altra parte. Vanno tutti a bere, giustamente. Però questo è un posto ottimo per piazzarsi. In attesa. Quindi dobbiamo aspettare una settimana. Richiamino. Tu, questo è un bel suonio della natura, no? Con te che cammini piano piano. Mamma mia. Ma che devo fare? Devo correre bestemmiando. Allora, questo è un altro laghetto, un altro specchio d'acqua. È messo ora a piove. Bello, fighissimo. Madonna, mi sembra una porta sul relax, questo gioco, però. Guarda, in quattro minuti io dormo. Ma proprio... Pam! Un orso. Cambio fucile, metto... Cioè, due colpi. Tu fai conto che... Vabbè, ma... Due colpi, ma... Se non stai troppo vicino, sei morto. Sì, sì, se li uso bene, però... Vai, corre, tanto l'orso non scappa. Come non scappa? Lo sappiamo che l'orso è pigro. Ma l'orso scappa e come? Ti muovi? Ma se faccio rumore, l'orso... Ma l'orso non se ne va! Ma l'hai visto un orso che scappa? Anche biologo, anche biologo, bravo. I cervi scappano, gli orsi rimangono. Gli orsi rimangono. Senti, po'. Cazzate, quello che faccio io? Non era un orso. Oh! Forse è un look out point. Vai! Sono spassi dovunque. Dopo un'ora e mezza di Gameplay ne troviamo uno. Sono ovunque, proprio se mi sono aperto... È una warning call. Perché ti sei mosso, capito? Eh, ma sentito, figlio di tutto. Vabbè, dai. C'entrano non l'avremmo mai preso. Ma non è se è negativo. Non l'avremmo mai preso. Cioè, che se gli spari da là sopra, poi devi scendere a recuperarlo, l'hai perso per sempre. Ma no, no, perché c'hai... Non c'hai il cane alla caccia, non c'è niente. Ti ho detto siamo soli come... Almeno avevamo il cane e gli sparavamo. Qualcosa. So che se avessimo avuto un cane con te sarebbe durato 10-15 secondi. Vai, prendilo. Alla prima noia. Sarebbe stato divertente almeno. Guarda di giù. Prendi il binocolo. Ma c'è la nebbia, ma che non si vede un cazzo. Ma non è vero, prendi il binocolo. Ma aspettiamola. È un binocolo al di nebbia. Non si vedrà un cazzo, vuoi vedere? Guarda adesso, 3-4 ore, e ti prendo il binocolo. Cioè, vedi sto paio di coglioni. Somma, somma col binocolo. Accende pure l'entrata lo studio. Vedi? Chiaro proprio. Però almeno vedi se si muove qualcosa in mezzo alla radura. Vabbè, me la sbatto sul cazzo, perché se mi devo fare 95 gradini per andare giù. Gli spari da qua e lo andiamo a recuperare, madonna. Tra un po' arriverà l'alba, vedi? Si vede che la luna sta scendendo. Non arriverà mai. Il sole. Andiamo a fare il guido. Se tu vuoi chiudere il guido... Puoi saltare. Puoi saltare. Ok. È una delle morti più tristi. Partito. È più albero. Ma io ho visto che si è piantato sull'albero. Eh, è piantato. Quell'albero, in cima all'albero. No, ma come ci faccio ad arrivare? C'è il lato. Si vede l'uccello, tra l'altro. Si vede proprio l'uccello. In cima a quella cosa di là. Ma non ci posso andare. Devi ragliere. Ma no, l'ho perso per sempre. Sono un seccatore di uccelli. Ma è indesito un uccello buono. Però non lo recupereremo mai più. Ma l'hai detto. Vai in quella direzione. Ragazzi, ho ucciso due uccelli. Non uno, due. C'è, forse, forse, forse. Forse, 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 forse. Dovevi mirare la testa. Quando sei messo in piedi, avevi la testa in bella mostra. Corro un sacco, forse. Trotto. Adesso non ci do più informazioni sul sanguinamento. Eccolo qua, sanguinamento. Ma lo troviamo. Trotto. Ragazzi. Eating. Ah, un lupo. Qua mangiano i lupi. No, no, no. Ho perso le tracce dell'orso. Una cacca di orso. Occhio, occhio. Questo potrebbe essere il nostro orso. Sì. Sì, è lui, lui. Sangue. Vai, vai, segui, segui. Non so, magari mi sente e devo rallentare. Sì, devi rallentare. Purtroppo... Però non perde più salva. No. Sì, è rigenerato, è guarito. È un lameciano. Non mi ha ammesso che sia il tuo orso. Ma penso di sì. Sì. Però guarda come cambia il paesaggio. Qui si è più a nord. Capri, ma... Ti rendi quando cazzo di strada ha fatto sto tizio? Potrebbe abbeverarsi a quel lago. Dopo tutta questa corsa e dopo essersi disidratato, sanguinante. Ragazzi, ma che inseguimento incredibile. Allora, se non lo piglio... Ma cagato? Allora, c'è di buono che se continui così potrebbe morire di vecchiaio. Che un'ora che ti corriamo dietro. È proprio un'ora. Che cazzo è che... Bambi! Abbassati, avvicinati. Piano, 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 piano. Ci sono due, Bambi e la mamma. Che non hai calcolato l'alzo. No, l'ho tirato in goccia. Sì, ma non hai calcolato l'alzo, dovevi tirar più su. Ce ne stavano due. Lo so. Era proprio un pienone. Però sappiamo che questa zona è frequentata dai cervi e infatti lì c'è il coso da costruire. Allora, costruiamo e il prossimo gameplay lo iniziamo da qui. Ma non mi siamo volto al cazzo. Perché stai diventando? Diciamo che mi sono un po' divertido. Oh, beh, ragazzi. Il posto migliore di questo non c'è. C'è un po' e basta. Al prossimo gameplay. Il posto migliore di questo non c'è.